Di secondi, visto che poi avremo modo di parlarne, la Lega è e rimarrà Lega Nord, presente, forte, orgogliosa e in crescita ovunque oggi sia presente. Visto che c'è un'enorme richiesta di idee, di progetti leghisti e di centrodestra, visto il vuoto che si è creato da Roma in giù, il giorno dopo le elezioni regionali presenteremo questo soggetto sulla base di alcuni valori condivisi che parlano di immigrazione, parlano di tasse, parlano di autonomia, parlano di famiglia, parlano di Europa. Aperto a tutti quelli che ci stanno, non solo ai partiti ma soprattutto ai milioni di ex elettori delusi, allontanati, che per disperazione hanno votato Tortocollo Renzi ma che aspettano solo un'alternativa a Renzi che è possibile. Fra 20 giorni partiremo allegramente. No, 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 la Lega è la Lega. Ho detto esattamente il contrario, la Lega Nord è, rimane Lega Nord ovunque presente, in Veneto, in Lombardia, in Liguria, in Piemonte, in Emilia. Laddove da statuto non esiste la Lega Nord per ovvi ed evidenti motivi, nascerà un soggetto che abbiamo l'ambizione possa radunare intorno a sé, Lega Nord compresa, la maggioranza degli italiani. Aperto a chiunque ci sta. Aperto a chiunque sottoscriva i valori e le proposte economiche che metteremo in campo.